Buongiorno a tutti, benvenuti a questo evento organizzato dal Centro Studi Assicurativi del Sindacato Nazionale Agenti, un evento che ha come obiettivo quello di illustrare le risultanze dell'indagine recentemente condotta dal Centro Studi sul preventivatore dell'IVAS. Quello strumento di preventivazione pubblico che in questo periodo è al centro dell'attenzione sia perché ne sta per diventare obbligatorio l'utilizzo per gli agenti secondo il Regolamento 51-2022, sia perché a giorni è attesa la sentenza, il pronunciamento del TAR sul ricorso presentato da SNAH proprio su questo regolamento. A parlarci delle risultanze dell'indagine saranno proprio i protagonisti che l'hanno condotta, quindi i componenti del Centro Studi Assicurativi che sono tutti qui con noi, con il loro coordinatore Paolo Bullegas, Giacomo Castoldi, Davide Mezzolli, Massimiliano Pro e Michele Languino. Io prima di dicere loro la parola però voglio ricordare due elementi fondamentali, due concetti fondamentali che sono noti certamente a noi addetti ai lavori, un po' meno a quelli che magari sono collegati in questo momento in streaming come i rappresentanti della stampa e i consumatori, però è importante che anche loro abbiano chiaro il significato di questi due elementi che ricorreranno poi nell'esposizione. Sono il contratto base e il preventiva. Cos'è il contratto base? Il contratto base è una configurazione contrattuale di una polizia RC Auto con dei contenuti minimi previsti dal MISE, a suo tempo dal Ministero dello Sviluppo Economico. È identico per tutte le compagnie, però ciascuna compagna può determinare liberamente il prezzo di vendita di questo contratto, di questa polizza. Comprende come garanzia il massimale minimo di legge, la guida libera, il pagamento annuale del premio e c'è da dire che nella sua configurazione minima non è detto che questo contratto corrisponda necessariamente alle esigenze dei clienti. Però è un contratto omogeneo per tutte le compagnie e quindi è confrontabile il prezzo tra elementi omogenei. Qui entra in gioco il preventivas, il preventivatore, il comparatore tarifario online creato e gestito dall'IVAS che ha come obiettivo quello di confrontare i prezzi delle diverse compagnie praticate sul contratto base su alcune garanzie aggiuntive che possono essere richieste dall'utente. Compara le offerte di tutte le imprese assicurative operanti in Italia. Dal primo aprile del 2023 dovrà essere obbligatoriamente consultato dagli agenti di assicurazione per informare il cliente dei premi praticati dalle compagnie delle quali sono manatari. Questo è quello che dice il regolamento 51. Adesso io credo che sia il momento insomma di vedere nel dettaglio queste risultanze che sono di queste indagini che sono dei sorprendenti se non addirittura eclatanti per certi versi. Per fare un po' un escurso storico di come siamo arrivati al preventiva. Do la parola a Giacomo Castoldi che è un componente del centro studio assicurativo. Grazie Roberto, buongiorno a tutti. A me il compito di fare questa introduzione storica per far capire da dove arriva la normativa di preventivas del contratto base. La gestazione di preventivas ha le sue origini in una normativa che risale al 2012. C'era il governo tecnico di Mario Monti, Sarkozy perdeva le elezioni, Obama veniva riconfermato, Apple introduceva l'iPhone 4 e la possibilità di farsi i cosiddetti selfie. Questo per farvi capire che il momento storico era diverso da quello che viviamo. Sono anche i primi anni degli sviluppo delle cosiddette compagnie assicurative online. C'è un po' di fermento, c'è dell'interesse generale. SNA non esita da subito a mettere in guardia su alcuni aspetti del fenomeno. Cioè il confronto online basato sul prezzo, sulle condizioni minime può tentare il consumatore inizialmente ma ha la tendenza a lasciarlo. Spesso, scoperto di bocci importanti per completare la copertura delle proprie esigenze assicurative è privo di una consulenza di lungo termine. Quindi un contratto che mirato a un frutto di un confronto sul prezzo ha la conseguenza di potenzialmente lasciare inespressi i bisogni del consumatore e alimentare un po' la sfiducia nei confronti del mercato quando arriva il momento del bisogno. A grande risonanza il convegno nazionale organizzato da SNA nel 2010 chiamato non a caso non solo prezzo. Le grandi società di consulenza internazionali hanno una visione un po' diversa. Loro percepiscono l'avvento delle compagnie online, delle compagnie dirette come positivo per il mercato e potenzialmente di rompente. Danno cinque anni di vita al mercato RC auto agenziale, degli agenti professionisti. A loro dire incapaci di adeguarsi ai nuovi tempi e incapaci di sostenere i costi e l'adattamento che l'avvento dell'online dovrebbe imporre. Oggi sappiamo che le cose sono andate un po' diversamente. le compagnie online sono ancora ferme all'8,7% in un mercato che è saldamente in mano al canale degli agenti professionisti. Negli ultimi due anni i comparatori online hanno persino perso il loro business riducendo le proprie quote di mercato. Apparentemente i consumatori sembrano aver capito che la sottoscrizione di polizia online senza consulenza e una scelta basata sul prezzo potenzialmente possono alimentare delle dinamiche patologiche del rapporto e causare un maggior numero di reclami e in generale una maggiore delusione rispetto allo strumento assicurativo. Torniamo nell'autunno 2012. Il governo Monti era in procinto di sciogliersi. Corre per emanare il decreto legge denominato sviluppo bis. Lo sviluppo bis era uno dei decreti chiamati omnibus cioè che raccoglievano tutta una serie di normative eterogene dal punto sullo stretto di Messina, al libretto degli studenti universitari. C'erano tantissime norme. Tra queste spunta l'articolo 22 titolato Misura in favore della concorrenza e della tutela del consumatore del mercato assicurativo. Sono apprezzabili gli intenti di massimo che vengono nominati. Al fine di favorire una scelta contratuale maggiormente consapevole da parte del consumatore il Ministero dello Sviluppo Economico si sarebbe occupato di emanare clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo assicurativo. In pratica ogni compagnia avrebbe dovuto presentare all'interno della propria offerta un contratto cosiddetto base su cui i consumatori avrebbero potuto operare le loro scelte di confronti in maniera più agevole. Il decreto entra in vigore il 16 agosto 2020. Facciamo un salto di otto anni. Non è questa la sede di approfondirla, bastino le parole di quello che probabilmente è uno dei massimi esperti sulla materia, il giudice di Cassazione Marco Rossetti. Cito testualmente. Un'attesa di otto anni per avere un regolamento che si sarebbe dovuto emanare entro il 19 dicembre 2012. Potrebbe indurre a pensare che il Ministro ci abbia consegnato un test normativo da fare in vita delle leggi moesai che ho al Codex Teodosianus. Purtroppo non è così. Ci consegna norme in parte inutili, in parte ambigue, in parte incoerenti rispetto alla legge delega. Tradotto, il contratto base già esisteva prima del contratto base. Non è delegato alla libera contrattazione delle parti, l'ambito RC auto. Ci sono molte normative a principale della quale è il codice delle assicurazioni. Che il contratto base sia di fatto praticamente inutile è confermato dalla lettura dei 24 articoli che lo compongono che di fatto sono una copia di leggi già esistenti. Anche questa volta la semplificazione la rimandiamo a domani. fatto sta che però la duplicazione è cosa fatta e tra le conseguenze di questa disposizione c'è la nascita del preventiveteore IBAS che è lo strumento informatico a disposizione del consumatore per il confronto tra contratti base. Conseguenza ulteriore è il tema del suo utilizzo da parte degli intermediari che deriva dall'articolo 132 bis del codice dell'assicurazione privata. Anche qui l'attesa non è di 8 anni ma è di 11. Stiamo ancora contando, vedremo gli sviluppi delle prossime settimane, ma il 132 bis recita gli intermediari prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente e esaustivo sui premi offerti da tutte le compagnie di assicurazione di cui sono mandatari. C'è stato negli ultimi tre anni su seguirsi di riunioni, comunicati, consultazioni. SNA ha anzitutto avuto combattere contro alcune interpretazioni della norma impropriamente estensive che ad esempio obbligavano a improbabili confronti tra compagnie presso le quali l'intermediario detene delle collaborazioni con altri intermediari, oppure l'applicazione secondo la quale le credenziali di accesso dovrebbero essere fornite dalle compagnie per qualche motivo. Su questi temi ha prevalso il buon senso ma stiamo ancora attendendo che si ponga rimedio a storture come la mancata applicazione ai broker ad esempio. Il risolto è anche il tema di fondo che prevede che l'obbligo per IVAS, il tema di fondo che l'obbligo doveva essere uno strumento fornito da IVAS concordemente ad accordi con ANI e SNA per creare una piattaforma unica accessibile a tutti gli intermediari. Un'idea originariamente potenzialmente virtuosa ma che si è tradotta nella pratica in una anche qui duplicazione di strumenti già esistenti e a disposizione di tutti che sono aggregatori tutto esistenti che riassumono le tariffe. C'è poi la questione relativa all'effettiva utilità e attualità di un provvedimento nato nell'Italia di 11 anni fa e che si applica a un mondo completamente diverso. Su questo tema i colleghi che verranno dopo di me svilupperanno ulteriormente. Grazie dell'attenzione. Grazie, grazie a Giacomo Castulli. Ora prima di dare la parola a Paolo Bullegas una nota tecnica. Se ci fossero delle domande, delle richieste di chiarimento possono essere inviate via email all'indirizzo snachiocciolasnaservice.it che viene monitorato costantemente, le domande verranno poi riportate ai relatori che risponderanno nel corso dell'evento. Ecco, entriamo adesso nel vivo di questa indagine su preventiva. Se conosciamo la metodologia che è stata applicata, i risultati e le problematiche relative per i consulenti e per i consumatori. Paolo Bullegas, coordinatore del Centro Studi Assicurativi. Grazie Roberto. Buongiorno a tutti coloro che sono collegati e a tutti coloro che sono presenti a questa conferenza. a me è il compito di andare a sviscerare un attimino quelli che sono l'esito dell'indagine che abbiamo condotto come Centro Studi Snachi. Andiamo subito, quindi chiedo alla regia di trasmettere la condivisione delle indagini. Benissimo. Partiamo da qua. Allora, intanto quali erano gli obiettivi che ci siamo posti per l'oggetto dell'indagine? Siamo andati a vedere l'oggetto dell'indagine qual era. Quello riconosce innanzitutto l'utilità, ma anche l'attendibilità e la verifica dell'effettivo contributo del sistema web preventiva, informativa, corretta, trasparente e esaustiva. Che è quello che il 132 bis, come abbiamo visto prima, come ci ha detto il collega Giacomo Castoldi, è alla base appunto di questo lavoro. Cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato un'indagine su un campione di oltre 500 agenzie che sono state impegnate, siamo non mandatari che più rimandatari, su tutto il territorio nazionale, delle diverse e principali compagnie di assicurazioni presenti sul mercato. Bene. Andiamo subito a vedere quindi... Scusa, ma non riesco ad andare avanti. Eccolo qua. Ecco, intanto presentiamo il preventiva. Preventiva si presenta con questa maschera. E quello che è l'incipit della prima immagine che troverete andando su questo sistema web è il preventivo in pochi semplici passi. Bene. Oltre a inserire i dati richiesti, poi alla fine dice infine scegli il preventivo migliore per te. Qui andremo a vedere come abbiamo realizzato l'indagine. L'indagine è stata realizzata scegliendo come settore quello delle automobili e delle autovetture e abbiamo scelto di individuare il rinnovo della polizza. Andiamo a scelto appunto di verificare il rinnovo della polizza, quali erano gli aspetti restituiti dal Rivas. Bene, su 536 consultazioni di rinnovo della polizza abbiamo visto che il 5% in 30 casi il preventivatore non ha indicato in elenco l'offerta della compagnia assicuratrice detentrice della polizza in scadenza. In pratica noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto che realizzare quella che era la consultazione che avrebbe fatto il consumatore molto semplicemente in scadenza di polizza va a consultare il preventivo per verificare qual è il premio offerto dalla propria compagnia a rinnovo e valutare eventuali ulteriori preventivi. Bene, in 30 casi la compagnia non era presente, la compagnia detentrice di questo contratto non era presente nelle offerte del Rivas. In 501 dei casi i premi di preventivas erano senza corrispondenza con la pietanza di rinnovo e questo apre subito un problema rispetto all'utilità di un sistema che ci dà un premio completamente differente da quello che è il premio di rinnovo previsto dalla pietanza. In 5 casi, soltanto 5 casi, i premi di preventivas corrispondono alla pietanza di rinnovo. Andiamo a vedere i risultati di questa indagine per capire la divergenza di questi premi. Beh, le divergenze inferiori a 20 erano 54 casi su 506 risposte e tra i 20 e i 50 euro altri 54 casi, l'11%, mentre di superiori a 50 euro e fino a 100 abbiamo notato, abbiamo evidenziato 84 casi, 17%. Ma ecco, questo è sicuramente clamoroso, differenze di oltre 100 euro nei 109 casi. Il 61% dei preventivi mostravano differenze di premio rispetto alla pietanza di rinnovo previsto dalla compagnia dell'identificazione della polizia del 61% dei casi, oltre 100 euro. Ma cerchiamo di capire esattamente cosa abbiamo fatto. Portiamo subito in esame quello che è una consultazione tipo esempio di nuovo polizia di una provincia di Alessandria. Il premio di pietanza era di 283,30 euro, già previsto in agenzia. Il premio di Preventivas invece dice che per quella polizia sarebbe costata al consumatore per la stessa compagnia 652 euro, con una differenza eclatante del più 130%, quindi 368 euro in più rispetto a quello che era la pietanza prevista. Allora a questo punto rispondiamo alla seconda domanda. C'è un problema di attendibilità del sistema. Il sistema in questo modo non risulta attendibile per il consumatore, tantomeno per la gente che deve lavorare su un sistema che non ha l'esito sperato. Noi ci siamo chiesti perché questi elementi. La risposta sta negli sconti applicati dalle agenzie. Perché? Perché lo stratificarsi di sconti, tutti quanti sanno che l'agente di assicurazioni, diversamente dalla compagnia, ha l'autonomia di personalizzazione del contratto di assicurazione. E nell'ambito della personalizzazione ha anche la facoltà di applicare degli sconti che nel tempo si sono stratificati. Ecco perché l'acquietanza che abbiamo visto, dell'esempio di Alessandria, che riportava 283 euro l'acquietanza, mentre la tarifa base 652 euro. Ecco, cosa siamo andati a chiedere quindi all'agenzia? Qual è lo sconto medio che viene applicato in agenzia al rinnovo delle singole polizze? Bene, vediamo che la stragrande maggioranza nel rinnovo applicano sconti medi. Quindi, fino al 15% la maggioranza, il 64% delle agenzie, tra il 15 e il 30% il 27,6% delle agenzie, e oltre il 30% il 7,8% delle agenzie. Quindi lo stratificarsi di sconti nel rinnovo del contratto assicurativo ha fatto sì che ci sia un disegnamento assoluto tra le tariffe previste dalle compagnie, quelle effettivamente praticate nella quotidianità delle agenzie di assicurazione. Tutto questo nasce anche a frutto nell'ambito della ampia concorrenza che c'è nel settore e dobbiamo assolutamente sottolineare, tant'è che negli ultimi anni abbiamo assistito a una riduzione del premio medio notevole. Pensate, dal 30% dal 2007 ad oggi la riduzione del premio siamo arrivati a quasi essere allineati a livello europeo. Oggi il premio medio di assicurativo nell'ambito dell'RCA in Italia è di solo 362 euro. Quindi questo permette anche al consumatore di avere una visione e un buon contributo anche all'inflazione che grazie alla riduzione dei premi assicurativi frena diciamo quella che è la dimensione dell'inflazione attuale. Vediamo un attimo invece quali sono gli aspetti di sconto nell'ambito dell'acquisizione delle polizze. Bene, nell'ambito dell'acquisizione di nuove polizze quando un cliente per esempio acquista un'auto nuova e esidera assicurarsi arriva in agenzia bene, nell'ambito di questa personalizzazione che viene effettuata dall'agente abbiamo la stragrande maggioranza dei casi e il premio viene scontato tra il 15 e il 30% il 40% dei casi e oltre il 30% abbiamo un buon 20% per cui diciamo che in agenzia si trova sempre la soluzione anche economicamente vantaggiosa alla ricerca di un contratto che sia adeguato alle esigenze del cliente ma anche economicamente valido e corretto. Bene, quindi quali sono le problematiche e le raccomandazioni che SNA come centro studi facciamo attraverso l'aver provato e aver testato anche per conto del cliente questo strumento. Allora, prima di tutto c'è un primo problema di fondo il fei da te il fei da te è un problema serio che riguarda intanto l'alfabetizzazione dell'assicurato una recente indagine ha potuto sviluppare che l'85% dei clienti purtroppo ha un'alfabetizzazione insufficiente e questo potrebbe portare il consumatore a sottoscrivere dei contratti senza avere piena conoscenza di quello che sta sottoscrivendo e lasciando spazi di scopertura molto importanti. Un esempio per tutti il contratto base ricerito come ci ha detto prima Roberto Pisano che ha presentato benissimo questo evento, questa conferenza è un contratto asciutto con tante esclusioni e con tante possibili rivalse da parte della compagnia verso l'assicurato quindi lasciandolo privo di garanzia assicurativa in molte situazioni. Allora un esempio per capire di che cosa parliamo guida esperta ognuno di noi potrebbe dare una definizione di guida esperta perché si sente esperto anche il 21enne che si mette alla guida dice io so guidare bene guido ormai da quando avevo 18 anni fatto la patente ma non è questo purtroppo ciò che chiede giuridicamente il contratto di assicurazioni per cui il 24enne che si è assicurato nella mia agenzia e aveva una polizza una polizza dove per guida esperta la compagnia riteneva esperto un cliente che ha con 22 anni di età e due anni di patente va su preventiva se trova un preventivo di una compagnia magari diretta sulla quale ha sentito tanta pubblicità e nel valutare il preventivo inserisce guida esperta perché ce l'aveva nella mia compagnia di assicurazioni dove era sufficiente avere 22 anni e due anni di patente lui ne ha 24 guida già da tre anni e quindi dice inserisco la guida esperta salvo per scoprire che le condizioni di contratto della seconda compagnia dove lui sta seguendo il preventivo pretende che la guida esperta il cliente abbia almeno 26 anni e almeno tre anni di patente quindi totalmente al di fuori di quelle che sono le sue caratteristiche principali tutti questi elementi sono elementi fondamentali nell'ambito dell'assicurazione e l'assicurazione è un contratto complesso le polizie non sono tutte uguali ed è per questo che dobbiamo assolutamente pensare a rivolgerci a un professionista che sono questi gli elementi che permettono di valutare le esigenze del cliente e dare le risposte adeguate alle sue esigenze io vorrevo farvi anche un'altra raccomandazione su quella che è una classica clausola contrattuale che non è prevista nel contratto base per esempio la granzia per guida in stato di ebrezza un elemento fondamentale perché il tasso colemico attuale previsto dalla legislazione nazionale è talmente basso questo tasso colemico dello 0,5% 0,5 grammi per litro di sangue che per forza andando a mangiare magari una pizza con mia moglie posso incorrere in una spiacevole situazione di aver assunto condividere un tasso alcolemico superiore allo 0,5 su questo aspetto consiglio veramente anche ai consumatori di verificare la tabella sui tasso alcolemici prevista dal ministero della salute allora compagnia alfa 0 rivalsa in caso di guida in stato di ebrezza ma una pulizia che già il titolo sembrerebbe dia risposta corretta a quelle che sono le esigenze del cliente 0 rivalsa e la compagnia alfa invece usa un altro titolo rinuncia al diritto di rivalsa bene da questi due da questi due esempi possiamo dare una considerazione molto semplice la compagnia alfa per esempio limita soltanto il stato di ebrezza mentre la compagnia beta lo inserisce anche l'influenza delle sostanze superfacenti mentre la compagnia alfa dice che condizionato allo 0 rivalsa a un tasso alcolemico non superi da 0,8 grammi dovrai di conseguenza inviare quindi un altro e dimostrare alla compagnia che avevi un tasso alcolemico più basso diversamente la rivalsa 0 non si applica ecco questi sono aspetti fondamentali di un contratto di assicurazione che fanno comprendere la complessità al consumatore medio di questo problema di cui ci troviamo ad affrontare oggi quindi in sintesi chiudo qua partendo da che cosa l'attendibilità abbiamo visto che il preventivo non è attendibile perché gli elementi numerici sono assolutamente errati l'utilità del sistema preventivo non ne abbiamo un'utilità perché non corrisponde alle esigenze del cliente non dà un contributo effettivo né alla corretta trasparente esistiva risposta da parte dell'assicuratore grazie 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 a Paolo Bulegas prima di proseguire vi do un paio di altri elementi sull'ordine dei lavori dovremmo avere a breve come ospite collegato per un saluto il presidente nazionale di Confcommercio Marco Festelli proseguiremo proseguiremo poi con un collegamento con l'avvocato Gianluigi Malandrino perché non potevano dopo il completamento certamente dell'esposizione non potevano certamente mancare voglio dire delle considerazioni sugli aspetti normativi giuridici e soprattutto sull'argomento del nostro ricorso Gianluigi Malandrino che risponderà a qualche domanda che gli verrà posta da Michele Languino del centro studi ovviamente quello che ci preme in conclusione dei lavori è mettere a confronto la voce dei consumatori con quella degli intermediari e questo lo faranno lo faranno il presidente nazionale SNA Claudio De Mozzi il presidente del del comitato dei gruppi aziendali agenti Dario Piana e il ospite il presidente di Confcommercio Lombardia Alessandro Palumbo ora io passo la parola a Davide Ormezzolli del centro studi che ci illustra la valutazione di impatto dell'applicazione del regolamento 51-2022 con riferimento agli oneri organizzativi ed economici per le compagnie e per gli intermediari grazie grazie Roberto buongiorno a tutti a me spetta il convito di illustrare l'impatto economico che il regolamento 51-2022 ha sulle agenzie di assicurazione in particolare lo strumento del preventivatore per l'analisi di impatto economico si intende in linea generale la stima degli effetti che un particolare progetto o attività genera sull'economia di riferimento lo studio ha voluto infatti calcolare gli effetti prodotti derivanti dall'obbligo per gli agenti di assicurazione di comparare il contratto base di rc auto utilizzando appunto lo strumento messo a disposizione loro che è il preventivas abbiamo individuato gli impatti diretti operazioni a carico diciamo dell'agenzia la prima cosa è accedere chiaramente allo strumento al preventivas bisogna confermare la privacy quindi bisognerebbe anche leggerla inserire i dati richiesti dal preventivatore attendere i risultati che il preventivatore produce analisi analizzare diciamo i dati che il preventivatore ha tirato fuori nell'ipotesi più favorevole alle agenzie e cioè quelle in cui si conoscono già i dati dei clienti almeno alcuni dati è stato calcolato un tempo di lavoro come minimo di 5 minuti questo nel caso appunto l'agenzia abbia un suo mandato nell'ipotesi che l'agenzia o l'agente abbia più mandati il tempo di lavoro deve come minimo rendersi raddoppiato in questo caso stiamo ancora aspettando dei chiarimenti sugli obblighi che hanno appunto i plurimandatari le caratteristiche abbiamo poi preso ad esempio un portafoglio medio di un'agenzia italiana con un portafoglio RCA di un milione e mezzo un premio medio RCA di 362 euro 4143 polizza rinnovo annuale 345 polizza rinnovo mensile tempo stimato per il calcolo 5 minuti di lavoro quindi minimo 5 minuti il costo di un dipendente di seconda categoria del CNL 2018 e abbiamo abbiamo diciamo ottenuto dei risultati che sono alquanto allarmanti si può condividere questa slide o è la condivisa i costi mesi a carico dell'agenzia li abbiamo calcolati 379 euro e 50 i costi annuali l'impatto annuale per l'agenzia è come minimo di 4554 euro è verosimile ipotizzare che questi costi per un'agenzia che ha più mandati si raddoppino pari almeno a 9108 euro non abbiamo considerato in questi costi e quindi bisognerà poi aggiungerli i costi per la formazione il controllo delle sottoreti e il controllo di gestione abbiamo poi calcolato comunque abbiamo evidenziato i costi e l'impatto dei costi sociali il funzionamento dell'attività di preventiva per conduzione operativa e manutenzione infrastrutture informatiche sviluppo e manutenzione applicativi back office e supporto ad imprese intermediari supporto specialistico servizio cyber security e servizi trasversali sono stati appattati per un importo conclusivo totale di 2.034.397 euro e qualche centesimo abbiamo poi individuato verificato gli oneri che ha carico anche delle compagnie dalla nota dell'ania rileviamo che potrebbero aggirarsi a un minimo di 37,5 milioni a un massimo di 150 milioni all'anno possiamo quindi evidenziare che i risultati dello studio condotto dal centro studio sicurativi SNA conferma che l'obbligo di preventiva non genera risultati attesi sia nel breve che nel medio lungo termine per contro genera costi sociali agli operatori quali gli agenti e le compagnie potenzialmente capaci di causare un aumento dei costi generali anche per il consumatore costi non giustificati secondo noi dai benefici attesi grazie per l'attenzione a tutti grazie grazie Davide grazie Davide certo che sapevamo insomma che questa cosa si sarebbe tradotta come intermediari in un onere importante però vedere questi numeri lascia comunque a bocca aperta insomma io darei la parola adesso a Massimiliano Pro del centro studi che ci illustrerà il tema della concorrenza e delle comparazioni in reccio auto e della consulenza al consumatore prego buongiorno a tutti allora sentendo le parole di Paolo sull'inefficacia del sistema e anche vedendo i numeri che ha fatto vedere adesso Davide sull'impatto economico che ha sulle agenzie la prima domanda che sorge spontanea è perché tutto questo? L'esperto di marketing quindi ho voluto fare un'indagine anche sul mercato e vedere che impatto potesse avere questo regolamento sul mercato e devo partire da quello che diceva giustamente Giacomo questa legge su cui si basa tutto ha 10 anni e 10 anni come diceva è i tempi di Obama i tempi di Schettino non c'era Netflix stava iniziando Instagram per cui è un'era geologica fa per cui se aveva un senso e aveva un senso in quel momento un certo tipo di normativa che dava quindi la possibilità di confrontare e dava anche l'onere agli agenti soltanto di informare il cliente su queste opportunità per dare una maggiore comparazione e dare concorrenza sul mercato oggi questo non ha più senso se vuoi pensare soltanto nel mondo assicurativo cosa è successo negli ultimi 10 anni gli home insurance il premio RC auto che è crollato del 30% che nel suo altro settore è crollato per cui già è tal la concorrenza e questo grazie anche a che cosa? grazie allo sviluppo del plurimandato grazie a collaborazioni orizzontali che hanno contribuito sensibilmente a creare concorrenza e soprattutto è nata l'IDD l'IDD ragazzi è una cosa che l'IVAS la conosce benissimo perché il nostro onere l'IDD mette finalmente al centro il cliente e dà l'onere all'intermediario di assistere di seguirlo di consigliarlo ecco tutto questo regolamento non tiene conto dell'IDD poi magari l'avvocato Malandino lo spiegherà meglio però quello che abbiamo spiegato fino ad oggi non c'entra nulla che sia chiaro con l'adeguatezza perché noi dobbiamo fare tutto questo lavoro che ci hanno fatto vedere prima ancora di parlare di adeguatezza e io faccio sempre un esempio parliamo quindi di un impatto anche sociale nei confronti del cliente e mi rivolgo ai consumatori immaginate di andare a comprarvi delle gomme chiudate dal vostro gommista voi entrate e dite voglio delle gomme chiudate il gommista vi dirà non ti dico il prezzo delle gomme chiudate io ti devo dire il prezzo di tutte le gomme normali che ho io come concessionario ma tu dici ma no a me cosa mi interessa mi interessa le gomme chiudate no no non le vediamo prima ti devo dire quello mi devi firmare che il prezzo di tariffa non perché ti faccio io il prezzo di listino sarà quello capite che è veramente assurdo eppure la normativa ci impone di fare questo la burocrazia italiana sappiamo che è un problema di tutti la stessa IVA si ha detto che vuole in qualche modo aiutarci vuole elevare la burocrazia il presidente Signorini l'ha detto ufficialmente ecco qua invece si aumenta la burocrazia immaginate in ufficio avere la gente che aspetta perché voi prima di fargli domande prima di lì dovete fargli questi lavori che abbiamo visto che vanno da 5 a 10 minuti e tutte le persone dovranno venire in ufficio quindi scordatevi i rinnovi per bonifico le compagnie dovranno che scordarsi i rinnovi con l'home insurance perché dovremmo certificare che abbiamo fatto vedere la tariffa di tutte le compagnie che abbiamo a tutti i clienti per cui dovranno venire firmare in ufficio o vedremo come per dimostrare questo capite che questa cosa qua ha veramente un impatto sul mercato brutto perché perché come dicevamo giustamente prima che Paolo noi adesso andiamo a focalizzare solo sul prezzo stiamo addestrando e le neuroscienze spiegano molto bene questo che se noi addestriamo il cliente il consumatore a guardare a pensare soltanto al prezzo si dimentica di tutto il resto e per lui quindi lui dovrà valutare la qualità di un prodotto non in base alle rivalze che abbiamo visto non in base alla copertura non in base all'effettiva efficacia della polizza così come ci impone il DD quindi concludendo veramente non ho trovato un solo motivo che potesse essere utile al mercato diverso sarebbe stato seguendo il principio del legislatore iniziale se era un obbligo di informativa non un obbligo di dover avere fare i palentivi e qua vi porto un esempio quando andate in farmacia c'è l'obbligo del farmacista di dirvi guarda se tu vuoi quel medicinale c'è anche il generico ma non è che ti stampa i prezzi di listini delle case farmaceutiche di tutte le medicine che possiedi e ti fa firmare immaginate dice c'è quello lo vuoi sì no no va bene ecco questo doveva essere invece il regolamento ha stravolto tutto questo e la domanda che mi faccio è perché perché tutto questo ma soprattutto perché soltanto agli agenti assicurativi ma di questo penso che poi nelle interviste che farà Michele con l'avvocato Malentino ne parleranno meglio grazie saluti a tutti grazie a Massimiliano Pro sì mi informa la regia che abbiamo in collegamento Marco Festelli che prima io ho definito e mi cospargo il capo di cenere presidente di Confcommercio ovviamente abbiamo parlato di rappresentanza dei consumatori Marco Festelli è il presidente nazionale di Confconsumatori che è un'organizzazione di consumeristica che non ha certamente bisogno di presentazioni quindi io prego la regia di avviare il collegamento per ascoltare il suo saluto ringrazio innanzitutto SNA e il presidente De Mozzi per l'inviso per il coinvolgimento in questa attività in questa conferenza ma anche nello studio della valutazione del preventivatore IVAS quello che c'è da dire poi i nostri esperti lo hanno anche detto in alcuni articoli che sono apparsi anche sul notiziario SNA diciamo che nella sostanza è un'idea che potrebbe essere buona ma come al solito come avviene nel nostro paese viene realizzata male e realizzata in modo distorto è un per come congegnato il preventivatore attuale è in realtà di pochissimo scarsissimo utilizzo pratico e di interesse del consumatore innanzitutto perché parte dall'RC autobase e tutti noi sappiamo che l'RC autobase non è sempre l'unico prodotto che interessa all'assicurato quando si acquista soprattutto una macchina nuova o semi nuova si vanno a cercare altre garanzie tipo incendio e furto casco collisione e quanto altro ciò che mette il riparo l'assicurato da una serie di eventi che hanno dei costi economici notevoli quindi del preventivatore diciamo se ne fa assolutamente poco dall'altro punto di vista la cosa distorta che si osserva subito è che il preventivatore viene reso obbligatorio mi scappa anche la risata sotto questo aspetto soltanto per gli agenti assicuratori e assicurativi e non per i broker quindi gli intermediari puri ed è un'assurdità che non ha alcun senso diciamo di esistere se veramente IVAS volesse predisporre una piattaforma utile al consumatore che peraltro non dovrebbe gravare sulle agenzie e sugli agenti cioè al preventivatore ciascuno dovrebbe avere accesso direttamente senza mettere l'obbligo e l'onere a carico dell'operatore economico in questo caso agente assicurativo a mio avviso dovrebbe fare un diverso una diversa e più complessa operazione e magari questa volta partire dagli diretti interessati cioè sentire cosa serve agli assicurati perché tutto questo percorso che ha portato al preventivatore i consumatori sono stati quindi gli assicurati sono stati sostanzialmente dimenticati quindi un'idea buona mal realizzata che va cambiata profondamente questo è questo è l'esito della nostra valutazione su questo su questa iniziativa di che dovrebbe andare incontro a dico dovrebbe agli interessi ai diritti degli assicurati consumatori ma che in realtà diventa del tutto inutile e diventa un orpello che appesantisce appunto gli operatori economici e quindi i lavoratori del settore anche per questa visione che sostanzialmente coincide con soltanto pochissime varianti che sono quelle che noi interessano le problematiche specifiche della nostra categoria ma è una visione che è quella degli agenti e quella dei consumatori d'altra parte la consulenza è per la gente il valore aggiunto nella sua professione e la consulenza è il valore a cui ha diritto per normativa primaria il consumatore la ringrazio dottor Festelli esatto io ringrazio 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 no va bene ma era era uno scherzo se mi accento sono un toscanaccio e quindi spesso la butto in battuta va benissimo va benissimo così non me la prendo assolutamente ma voglio ringraziare ancora una volta SNAD il contributo fattivo che dà ha degli aspetti in comuni del rapporto assicurato e assicuratore trattino ancora compagnia insomma quello dell'agente è un diciamo così una posizione fondamentale che è a garanzia da un lato opera ovviamente per la compagnia mandante le compagnie mandanti ma dall'altro ha un rapporto diretto col proprio cliente quindi dovrebbe essere il primo consulente ed il primo formatore poi in generale del di una migliore cultura assicurativa in capo ai consumatori italiani grazie a voi e mi scusa ancora di poter essere lì con voi non mancherà un'occasione ok proseguiamo le risultanze dell'indagine sono state esposte quello che emerge dall'indagine è certamente inquietante e conferma che le criticità non riguardano esclusivamente il mondo degli agenti che sono comunque discriminati abbiamo visto rispetto ad altre figure di intermediario ma impatta in modo straordinariamente pesante anche sui consumatori ledendo il loro diritto a una consulenza finalizzata a vedersi proporre coperture assicurative di qualità e contraddicendo la filosofia di un impianto normativo che dall'Europa prima discende poi verso la legislazione nazionale fino alla regolamentazione da parte dell'IVAS che parrebbe rivolta a questo punto solo teoricamente alla tutela del consumatore però ci sono anche degli aspetti normativi importanti sono quelli delle norme che il sindacato ha voluto contestare con il ricorso al TAR a questo proposito io passo la parola a Michele Languino del centro studi che su questi aspetti intervisterà l'avvocato Gianluigi Malandrino che è in collegamento con noi e al quale do il benvenuto grazie Roberto un saluto a chi ci segue direi da casa ma vista l'ora dai nostri uffici delle nostre attività Gianluigi Malandrino buongiorno io ti darei del tutto puoi fare questa fissione è davvero un piacere per me avere l'opportunità di affrontare questi aspetti siamo nell'emore della decisione dell'attesa della decisione del ricorso quindi forse è proprio il momento più migliore per potersi per poter andare a confrontarsi sui motivi e sugli aspetti più generici fra qualche giorno fra qualche settimana dovremo parlare invece degli effetti di questa sentenza o di come eventualmente renderci complianza per la parte che sarà rimasta confermata vedremo da parte dei giudici amministrativi quindi in questa fase io però comincerei un po' prima di arrivare ai motivi del ricorso che è molto interessante conoscere e capire perché da parte del SNAO ci sono prese posizioni a prescindere ci sono delle documentate documentabili iniziative che hanno dei fondamenti molto molto importanti che con la tua io abbiamo ovviamente con la tua opera l'abbiamo valorizzato quindi la prima per me non senti qui non abbiamo il contraddittorio come in giudizio quindi non c'è non c'è IVAS ma cercando di essere un po' obiettivi mi consentirei di affermare che IVAS non aveva un compito facilissimo nel dare attuazione alla normativa primaria cioè a monte un 132 bis che da un obbligo agli intermediari come è stato ripetuto durante la giornata di dare informativa ai clienti dei premi relativi alle compagnie di cui sono mandatari e doveva dare attuazione essendo un normatore di secondo livello la domanda qual è ma c'era una modalità diversa differente per dare attuazione a questo obbligo senza accedere in questi intollerabili gravami per i noi operatori li abbiamo affrontati con i colleghi con il collega Omezzoli poco fa eccetera e sono a fronte di provvigioni che viva Dio sono anche dichiarate in polizza e quindi sono percepibili dall'assicurato in valore assoluto in valore percentuale sappiamo che il margine è molto contenuto e quindi questo cancelletto in più questo passaggio in più del contratto base del preventivo aggrava tutto questo lo abbiamo visto c'era una modalità diversa per cui si riusciva a rispettare il principio di proporzionalità si ottende diciamo alle normative per cui il fine va raggiunto con il miglior sacrificio per il soggetto vigilato o per il destinatario della norma allora niente no dicevamo se si poteva fare una cosa più semplice si poteva certamente fare una cosa più semplice secondo me nel suo complesso la norma del 132b andrebbe letta più come un sistema consultivo che viene dato al mercato da parte dell'IVAS attraverso i preventivas piuttosto che non come una serie di obblighi qui invece il regolamento quelli che potevano essere semplicemente appunto degli ausili a una migliore valutazione degli interessi sono stati trasformati in una serie di obblighi e questo ovviamente va a colpire in particolare gli agenti già che i broker sono invece sentati poi nessuno si è posto il problema di come funzionerebbe in caso di collaborazione fra broker e agente e cioè se il preventivas sia in capo al broker sia in capo all'agente o non sia in capo a nessuno tutto sommato quindi da questo punto di vista la norma oltretutto è anche poco approfondita e abbastanza superficiale quindi credo di poter rispondere dicendoti che sicuramente si poteva attribuire al preventivas nel regolamento una funzione di mera consultazione non una serie di obblighi come invece è stata tradotta di rilievo con i broker mi sembra di capire che anche ci sia un po' di confusione risposto per esempio a quell'istituzione che contemporaneamente abbia dei rapporti di collaborazione sia con degli agenti che con dei broker il suo cliente non sarebbe discriminato nel momento in cui non avrebbe diritto a tutte le offerte la comunicazione dei premi quindi ci sarebbe una situazione di confusione e discriminazione anche per il cliente per il consumatore sì sì non c'è dubbio tieni presente che in definitiva quando un iscritto in sezione opera contemporaneamente per agenti e per broker questa comunicazione questa notizia il cliente la viene a sapere soltanto dagli allegati precontrattuali dal 3 dal 4 cioè quando si qualifica l'addetto in sezione e ci dice in quel momento se sta operando per conto di un broker o per conto di un agente ora è chiaro che se opera per conto di un agente e in quel momento lo afferma e siamo tutti tenuti in particolare è tenuto il subagente sarebbe tenuto alla procedura di preventivazione mentre invece se si afferma collaboratore di un broker non sarebbe più tenuto alla procedura di preventivazione ovviamente questo determina una così una una discrasia tra quelli che sono gli obblighi e gli interessi dei clienti se si rivolgono a un broker oppure se si rivolgono a un agente e determina anche un'alterazione del gioco concorrenziale perché gli agenti avendo molti più oneri sulle spalle hanno maggiori difficoltà rispetto ai broker altra possibile di spari di trattamento ne abbiamo parlato ed è obiettiva in termini di maggiori costi ma vorremmo indicarla da te da altri punti di vista quella fra monomandatari e plurimandatari cosa ci vuoi dire a riguardo ma guarda allora qui qui entriamo diciamo nella seconda fase di quello che è stato ricorso cioè l'articolo 11 del regolamento che sostanzialmente nella sua versione iniziale poneva l'obbligo per la gente di fare sempre e comunque preventivas per tutte le imprese che rappresentava anche nel caso in cui il cliente si fosse già rivolto al preventivatore in forma autonoma qui c'è stata una modifica perché dopo il nostro ricorso c'è stato un chiarimento applicativo da parte dell'IVAS che di fatto avrebbe accolto sostanzialmente questo nostro motivo di ricorso dicendo che quando il cliente si rivolge in forma autonoma al preventivatore poiché ha la possibilità di visionare in quel momento tutte le imprese del mercato non è più necessario né per l'agente monomandatario né per l'agente plurimandatario l'accesso al preventivas questo è un caso limitatissimo posso riferire io nel senso che gli accessi diretti risulta anche da fonte sono 24 ore da parte del consumatore sono in un anno sono in un anno 300 al giorno sono veramente qualcosa di rispito è un caso che nella pratica almeno ad oggi si verificherà raramente raramente ma sai Michele qui è anche un problema di prova e poi lo vediamo meglio nel punto successivo cioè quando c'è forse viene forse imposta dico forse spiego poi perché dall'IVAS la tenuta di un qualcosa che dimostri che l'accesso al preventivatore c'è stato quando entriamo nell'ambito della prova chiariamolo questo colleghi quindi facendo sintesi chiarimento che cosa dice cosa dice se il cliente si è già interrogato da solo il preventivo si arriva in ufficio e dà contezza dei numeri relativi numeri tra l'altro sono alfa numerici sono alfa numerici ce li avete visti molto complessi le chiavi molto particolari dà contezza all'intermediario di aver già fatto da sé l'intermediario può prenderne il quoto e astenersi e qui c'è una differenziazione monopuri nel senso che stiamo parlando del pubblico non avrà l'obbligo di interrogare il preventivo ma e qui spesso il rimedio è come dice qui cascalassino ma dovrà premunirsi di una idonea dichiarazione che poi dovrà salvare archiviare detenere comprendete tutti quanto sia ciò faraginoso e abbia un costo anch'esso abbiamo ben inteso è così sì è così perché alla fine le norme dell'articolo 11 del regolamento quelle che noi abbiamo impugnato nel regolamento 51 avevano una struttura abbastanza interconnessa sostanzialmente in una prima parte si diceva che in ogni caso l'intermediario agente è tenuto a interrogare il preventivatore anche se ciò è già stato fatto in forma autonoma dal cliente poi si diceva che l'agente doveva tenere prova dell'interrogazione al preventivatore con indicazione dei numeri dei preventivi che erano stati visionati questo sistema è stato parzialmente scardinato dal chiarimento applicativo dell'Ivas che oggi dice che l'agente non è più tenuto ad accedere al preventivatore se il cliente lo ha fatto in forma autonoma quindi potrebbe anche bastare raccogliere una dichiarazione del cliente che dice ho eseguito in forma autonoma l'accesso al preventivatore pertanto è esentato l'agente dall'eseguirlo però una dichiarazione di questo genere come o anche quella successiva e cioè la dichiarazione nella quale tu dichiari invece che sei acceduto al preventivatore perché il cliente non lo ha fatto in forma autonoma e quindi l'hai dovuto fare tu agente in un caso e nell'altro dice l'Ivas non è indispensabile la forma scritta questo tipo di prova può essere raccolto e conservato anche in una forma diversa qui direi quanto sia tecnico e quanti problemi ci siano se mi consenti anche per esistirlo che è quella che incombe su noi è quella della possibile rilevazione da parte del cliente della nullità della polizza che fosse stata contratta senza che l'intermediario fosse appunto rispettato l'obbligo dell'informativa dei premi con i mandatari ci dici qualcosa sulle problematiche che inesta qualcosa che si rimborsiamo il premio nascono altri problemi o possono nascere altri problemi per il cliente per l'intermediario per la compagnia per il terzo che è controparte di un eventuale sinistro dice il comma 4 dell'articolo 132 bis che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto ove prescritta le informazioni di cui ha comma primo è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente allora anzitutto bisogna dare a questa norma per il momento e finché è in vigore benché sia una norma abbastanza assurda bisogna dare alla giusta portata le informazioni che l'intermediario deve dare sono le informazioni date in modo corretto trasparente ed esaustivo sui premi offerti dalle imprese di assicurazione di cui sono mandatari quindi questa informazione non è detto che debba automaticamente essere il preventivatore a mio avviso sarebbe la norma rispettata semplicemente con una dichiarazione del cliente che dica di aver ricevuto un'ampia trasparente e comprensibile informativa su tutti i prodotti e su tutti i preventivi offerti dalle imprese di cui l'agente è mandatario è comunque una dichiarazione sulla quale indubbiamente bisogna prestare molta attenzione perché adesso che questa dichiarazione debba includere o meno l'accesso al preventivo resta il problema che si tratta di una nullità eventualmente rilevabile tra l'altro solo dal consumatore il che significa che un soggetto potrebbe in qualsiasi momento di vigenza di un contratto assicurativo accorgersi che non è stato rispettato pedissequamente quanto previsto dal primo comma che non ha avuto questa informazione ampia completa e trasparente e pertanto potrebbe invocare la nullità del contratto vi dico soltanto che la nullità del contratto ha effetto retroattivo cioè ha effetto dall'origine è come se il contratto non fosse mai stato stipulato fatti salvi gli effetti già prodotti in definitiva c'è anche il rischio che il consumatore possa chiedere a seguito della nullità la restituzione della parte del premio che ha versato e per il periodo in cui è stato valido il contratto assicurativo il che poi si riverberebbe a cascata sulla gente con la richiesta di restituzione delle provvigioni da parte della compagnia quindi è sicuramente una norma completamente sbagliata è una norma che a mio avviso sulla quale bisognerà intervenire a livello legislativo credo che per il momento si possa ritenere che questa nullità ci sarebbe solo nel caso di violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza non anche nel caso di violazione dell'obbligo di preventivazione si poi ci sarebbe anche il caso ogni compagnia controlla i suoi ma se un agente è plurimandatario potrebbe essere invocata la nullità di quel contratto stipulato ma quella compagnia non essere a conoscenza che il collega non abbia fatto i preventivi delle altre compagnie quindi comunque se ho ben capito la nullità sarebbe rilevabile si non sarebbe a mio avviso invocabile da parte del cliente la nullità nel momento in cui nello sottoscrivere il contratto il cliente sottoscriva anche una dichiarazione nella quale di atto che quanto previsto dalla comma 1 dell'articolo 132 bis sia stato pedisseguamente rispettato da parte dell'agente questa è poi una domanda finale si auspicava da più parti noi per primi insomma di tener fuori i rinnovi che rappresentano più dell'80% limitando l'obbligo ai soli casi dei schi nuovi secondo te poteva raggiungersi questo chiamiamolo compromesso fra le parti che ci avrebbe come devo dire fatto digerire meglio queste incombenze sappiamo che le polizze del ramo RC auto hanno durata annuale quindi comunque anche se l'anno successivo quella che viene stipulata è formalmente la stessa polizza rinnovata in realtà gli effetti giuridici è una nuova polizza questa è anche da non solo da esperto del settore da regale ma anche da consumatore secondo te questa regolazione assolve a quegli obiettivi sostanti di maggiore concorrenza e comparazione è una domanda aperta ma ti chiedo di poter rispondere in un minuto in modo da rispondere un po' i nostri tempi solo in una minimissima parte coincidono con quelli che sono poi gli effettivi preventivi e i prezzi effettivi delle polizza il consumatore ha mille modi per informarsi oggi non ha certo bisogno di ricorrere a questo marchigegno in più e questo l'ho sempre sostenuto questa sfiducia che costantemente emerge nei confronti della categoria degli intermediari assicurativi secondo me va in qualche misura rimossa perché come ci si rivolge a un medico ci si rivolge a un avvocato e così ci si rivolge a un agente cioè io per primo come consumatore se mi fido di un agente affido a lui la ricerca del preventivo che mi metto a fare pasticce a guardare i preventivi a saperdere tempo non manco lo so se ci sono stati degli atti preventivi capisci allora i pronostici sulle sentenze non si fanno però insomma rimaniamo in fiduciosa e previ d'attesa ringrazio l'avvocato Malandrino e riporto la parola a Roberto Pisano grazie grazie ancora grazie Michele grazie grazie all'avvocato Malandrino io chiedo alla regia mentre qui si alternano si alternano gli ospiti per la parte finale di questo incontro di mandare il tappo cosiddetto insomma la slide di fondo nel frattempo che ci sistemiamo io volevo fare un mimo di sintesi sugli appunti che ho preso sulla relazione mi sposto anch'io ecco sulla relazione il preventiva sostanzialmente è uno strumento nato vecchio abbiamo visto è inattendibile è di difficile utilizzo in caso di fai da te per l'utente ha delle garanzie aggiuntive disomogenee quindi non comparabili e soprattutto di difficile interpretazione per l'utente è potenzialmente pregiudizievole per i consumatori perché li priva della consulenza concentrando l'attenzione sul prezzo e sviandola ai contenuti ha oneri rilevanti tanto per gli agenti quanto per le imprese di assicurazione è legato dalla filosofia della normativa primaria impone all'agente un'attività inutile per il consumatore è discriminante per gli agenti che sono gli unici soggetti sui quali ricadono degli obblighi di consultazione e ha effetti imprevedibili abbiamo visto da ultimo per esempio per il tema dell'annuità del contratto esposto dall'avvocato malandrino questo è quello che ho appuntato durante durante gli interventi ora abbiamo abbiamo cambiato come avete visto il parterre perché in questo momento confrontiamo le voci dei consumatori con quelle degli intermediari anche se insomma abbiamo già visto dall'intervento anche del dottor Festelli che c'è una sostanziale condivisione ecco delle vedute su questo io vorrei iniziare da Dario Piana poi abbiamo il presidente De Mozzi e abbiamo il dottor Alessandro Palumbo che è presidente di consumatori della Lombardia non mettiamo limiti alle possibili evoluzioni della professione insomma però inizierei da Dario Piana che è presidente del comitato dei gruppi aziendali agenti aderenti a SNAP per chiedergli in che modo i gruppi agenti possono intervenire per risolvere oppure almeno per mitigare le problematiche che emergono per gli operatori e per gli utenti buongiorno a tutti prima di dire cosa vorremmo che il provvedimento avesse portato devo dire che se l'idea del regolatore era quella di creare delle condizioni per aprire un mercato per fare per moderare le tariffe eccetera l'effetto è stato assolutamente contrario ora c'è parecchia preoccupazione io rappresento gli agenti devo dire che attendiamo la sentenza del TAR diciamo con attesa e con speranza perché pensiamo che altrimenti il primo di febbraio per noi sarà una data devastante questo provvedimento non ha raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefisso anzi li ha complicati e ha complicato maledettamente l'attività del consulente di assicurazione se noi leggi dobbiamo fare il consulente ecco una cosa che contesto da un mio precedente host che ha parlato che il tempo di un rinnovo è 5 minuti su un rinnovo è di 10 su un prodotto nuovo guardate che non è così ecco è molto ecco comunque è molto di più ecco e un cliente che debba anche rinnovare la polizza si siede fa 4 chiacchiere e tutto questo che sta uscendo ucciderà questo tipo di attenzione non la migliorerà e quindi gli agenti sono talmente preoccupati e fanno un invito soprattutto all'associazione dei consumatori perché insieme gli agenti e i consumatori devono devono a nostro parere modificare un provvedimento che ucciderà la distribuzione e non solo fa venire a mancare a noi il come dire il ruolo principale che è quello della consulenza è impensabile poter fare una consulenza serena di fronte a un caos del genere oltretutto come ha detto qualche mio predecessore qui anche i preventivi della stessa compagnia sono diversi quelli che sono sull'elenco rispetto a quello che troviamo nell'agenzia per cui diventa proprio praticamente impossibile impossibile lavorare quindi è un provvedimento a nostro parere devastante e questa preoccupazione non è solo degli agenti ma credo per una volta lo è anche delle compagnie quindi dovremmo fare qualche cosa assolutamente chiederei a Palumbo commentare il risultato di questa indagine con riguardo alle attese dei consumatori in termini di tutela e alla capacità di questo strumento di dare una risposta adeguata a questa esigenza avete sentito anche il bisogno e la necessità di sentire il parere dei consumatori su quello che veramente vogliono allora io direi che le critiche fondamentali a questo strumento le ha già fatte Festelli io voglio semplicemente dire che tutto questo si inquadra in un in un modo più generale noi abbiamo da un lato una situazione per cui si sta sviluppando in una maniera abanone gli acquisti online e l'acquisto online prevede appunto una situazione per cui manca quel rapporto di personale che è anche un rapporto fiduciario ed un rapporto di consulenza ma è semplicemente una valutazione che viene fatta su uno strumento che è molto freddo e che sostanzialmente indica come elemento di valutazione è semplice il prezzo quindi anche in questo caso mi sembra di poter dire che si sta facendo un ragionamento che individua il prezzo come unico elemento di valutazione di un servizio e siccome sappiamo che un servizio è un servizio non è un oggetto su cui il prezzo ha un valore importante ma il servizio ha come dire in situ in sé un valore che è quello della consulenza del servizio totale globale sappiamo che questo è già sbagliato quindi individuare l'elemento prezzo come unico elemento di valutazione è già sbagliato ma c'è un altro elemento che è generale e cioè ogni volta che si parla di intervenire in un settore a tutela dei consumatori a tutela dei cittadini eccetera c'è quello che io chiamo iperfetazione normativa cioè si ritiene che disciplinare un settore con una legislazione di obblighi peraltro non ben chiari sia lo strumento fondamentale noi abbiamo una serie di normative di legge l'abbiamo visto anche qui io sono ogni volta mi trovo di fronte a questa situazione per cui c'è una normativa e poi ci sono avvocati legali consulenti che cercano di interpretarla che cercano di capire cosa dice questa normativa questa è una cosa che per quanto riguarda a noi a situazione dei consumatori è una cosa folle perché noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui la gente acquista e si rivolge alle piattaforme online dove c'è una votazione sul prezzo poi viene truffata a un servizio che non è quello che pensava di avere viene da noi e noi ci troviamo di fronte a una situazione imbarazzante perché a volte la truffa non è truffa perché noi abbiamo questo elemento sulle piattaforme online che si muovono su una io parlo di piattaforme online perché faccio un discorso generale e sappiamo che questa tipologia di intervento in qualche modo va verso il sistema allora noi abbiamo questo problema che quando un consumatore si rivolge a una piattaforma online o si rivolge a un sistema automatico dove manca l'elemento umano che in qualche modo ha un rapporto di fiducia e anche un rapporto di responsabilità di contabilità allora sono sempre sul filo della truffa cioè non si riesce mai a definire quello come una truffa vera e propria ma si tratta di un inganno che non è malgrado tutte le leggi che vengono fatte che non si riesce a punire dopodiché noi abbiamo una situazione legislativa che sembra essere a tutela del consumatore invece offre centinaia di scappadoie perché le leggi in Italia non sono mai chiare anche in questo caso io sento parlare di interpretazioni cosa deve fare cosa non deve fare il consumatore si trova di fronte alla necessità di avere un'informazione e di firmare un documento allora se noi la vediamo da un punto di vista burocratico sappiamo che un peso burocratico per voi è totalmente inutile per il consumatore io sono uno molto pratico quindi non faccio discorsi teorici io vado in banca e mi trovo a fronte il consulente che mi dice qui ci sono 20 poi da firmare metti la firma e con questo io garantisco che sono stato informato quindi burocrazia è la dedicata nessun valore aggiunto per il consumatore questo sistema rischia di essere questa roba qui rischia di essere un sistema farraginoso che dà degli elementi indicativi assolutamente parziali perché l'ho detto ma festelli cioè questo riguarda semplicemente una parte di quello che io chiedo perché il contratto base nel 90% dei casi o forse di più è semplicemente una parte di quello che chiedo mi troverò di fronte a burocrazia da parte vostra e a una firma che probabilmente io farò sotto un pezzo di carta che mi dice che io sono stato informato eccetera quindi non aggiunge nulla a burocrazia mentre per i consumatori è importante definire il rapporto di fiducia con chi fornisce un servizio e definire con chiarezza quei 4 sono 5 6 punti che devono essere chiari nella sottosizione di un contratto questo vale per i contratti assicurativi per i contratti bancari per tutti i tipi di contratti ormai siamo sommersi da una legislazione totalmente confusa da una burocrazia ottusa da cannellate di carte che vorrebbero essere esaustive per il consumatore e invece sono semplicemente nulla perché nessuno leggerà mai tutto quello che gli viene fatto firmare e anche in questo caso io ho il sospetto il dubbio che a voi verrà chiesto un ulteriore aggramento del lavoro ma per il consumatore starà semplicemente una firma che metterà sotto un pezzo di carta che metterà perché come si fa sempre quando il consumatore si rivolge a una persona e se la di fronte si fida di quello che quella persona dice perché deve instaurare il porto di fiducia con il consulente quel firma lì non aggiunge nulla al consumatore forse tollerà diciamo il consulente ma non so fino a che punto lo tollerà di fronte a un conteggioso io ho finito perché sono stato troppo lungo e forse non ho risposto assolutamente sì ma non è un'intervista insomma io vi cedo la parola perché possiate insomma esprimere il punto di vista di coloro che rappresentate ecco Claudio De Mossi al presidente dell'antica del SNA che ha fin da subito guidato il sindacato in un'azione di contrasto contro gli obblighi previsti dal regolamento 51-22 perché ha intravisto insieme al suo esecutivo da subito le criticità che poi invece sono effettivamente state confermate l'acquisizione è stata confermata sia per le discriminazioni con gli agenti per gli agenti ma sia anche per la sostanziale inutilità e inattualità di questo strumento io chiedo a Claudio De Mossi a che punto siamo su questa su questa lotta è ancora di più se dovesse andarci male con la sentenza Michele ha detto che non si fanno pronostici sui pronunciamenti il sindacato comunque ha un piano B allora grazie Roberto innanzitutto perché il sindacato ha capito da subito che questo era un lato critico e lo abbiamo fatto presente all'Ivas che come troppo spesso avviene purtroppo è sembrata aver compreso ciò che abbiamo comunicato ma poi ha continuato la propria strada senza tenere in minima considerazione tutti gli aspetti che noi abbiamo evidenziato che tra l'altro abbiamo evidenziato anche in maniera formale con delle comunicazioni formali e intervenendo nel percorso di pubblica consultazione sul regolamento 51 che va a normare il preventivatore e insomma ma c'è forse anche un problema dell'operatività di un istituto di vigilanza che tiene in scarsa considerazione le segnalazioni i gridi di allarme le preoccupazioni espresse dai soggetti vigilati forse questa è una modalità che merita di essere discussa e che dovrebbe essere cambiata proprio per evitare situazioni come quella in cui ci troviamo oggi e cioè di una iniziativa regolamentare che a distanza di dieci anni va a riprendere concetti ormai seppelliti ormai sepolti nella storia perché la realtà di dieci anni fa come hanno detto bellissimo i colleghi del gruppo di lavoro del centro studio la realtà di dieci anni fa era completamente diversa rispetto ad oggi andare a normare quella realtà oggi non ha più senso non in questo modo ma due appunti velocissimi il primo non si capisce se siamo consulenti o comparatori gli intermediari professionali gli agenti sono comparatori o sono consulenti se come ci dice la direttiva europea sono consulenti e hanno obbligo di informare con correttezza trasparenza ed esaustività il cliente non possono essere obbligati a delle modalità operative come quelle del regolamento 51 che riducono questo aspetto consulenziale a una comparazione sul prezzo di un contratto teorico che sul mercato di fatto non esiste sarebbe curioso che l'ivas si togliesse l'osfizio di andare a verificare quanti contratti base sono vigenti oggi non ce sono perché tutte le polizze e le ciauto sono personalizzate sull'esigente del cliente questo esclude a priori la validità di questo strumento che basa la comparazione e il contratto base ma perché dieci anni fa aveva un senso c'era il problema di evitare la giungla normativa del contratto rc auto oggi non ha più senso oggi i clienti hanno imparato a farsi personalizzare le polizze dei ciauto gli agenti hanno imparato a personalizzare le polizze dei ciauto le compagnie hanno imparato a personalizzare tariffe e contratti non ha più senso una comparazione sul premio teorico di un contratto teorico che sul mercato non esiste ora dover arrivare a iniziative come questa a iniziative parlamentari ai corsi al tar dover arrivare a ricorrere ai tribunali per dire all'istituto di vigilanza hai preso una strada sbagliata perché è una strada superata che nessuno più percorre o immagina di percorrere è triste in una democrazia avanzata come l'Italia di più noi dobbiamo consigliare al cliente il prodotto adeguato siamo obbligati a farlo per legge quindi deduco siamo per legge consulenti del cliente ma vi pare possibile obbligare un consulente a mettere in atto nei confronti del suo cliente un'informativa teorica su contratti inesistenti sul mercato solo perché lo dice un regolamento di un istituto di vigilanza che evidentemente ha perso il contatto con la realtà del mercato che deve andare a normare e a regolamentare altro aspetto se siamo consulenti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione devono essere opportunità io medico decido quali farmaci prescrivere quali strumenti quali attrezzi utilizzare per fare la miglior diagnosi al mio cliente al mio assistito non può esserci una normativa che mi dice tu comunque usa questo bisturi poi gli dici al cliente a cosa serve quel bisturi in linea teorica poi vai nel caso concreto fai quello che devi fare a chi serve a quale scopo ultimo aspetto e arrivo alla domanda che non voglio eludere sull'esito semmai non favorevole di altro aspetto ma se i veicoli sono tutti assicurati tranne quelli che mettono in atto l'evasione assicurativa vuol dire che abbiamo una quarantina di milioni di polizzeri auto già vigenti delle quali sappiamo nessuna è il contratto base che verrà comparato comparato a IVAS queste sono polizze che di fatto vengono rinnovate anno per anno cioè queste polizze già beneficiano di un rapporto in essere tra agente e suo cliente allora perché entrare in maniera invasiva in questa relazione consulenziale professionale stravolgendone regole sulla base delle quali questo rapporto si è instaurato ma vi sembra intelligente vi sembra percorribile è chiaro che questa è una maniera invasiva di entrare in un mercato facendo danni stiamo veramente entrando con l'elefante in installeria allora la richiesta nostra è che almeno in presenza di un contratto vigente si consideri che infatti è un rinnovo quando il cliente paga il rinnovo di quella polizza in scadenza chi l'ha detto che un contratto che per legge a durata annuale non può essere di comune accordo tra le parti rinnovato chi l'ha detto l'IVAS ma in base a quale principio giudico un contratto che giunge a scadenza non può essere di comune accordo rinnovato perché se il contratto d'affitto temporaneo della durata di quattro anni un anno sei mesi temporaneo giunge a scadenza io e il proprietario non lo possiamo di comune accordo rinnovare anche a parità di condizioni sì e non si capisce perché questo non si potrebbe fare con una polizza di ciotto allora se è vero che una parte importante di 40 milioni di contatto vigenti viene rinnovato con una sorta di automatismo solo tramite l'obbio informativo in maniera corretta trasparente ed esaustiva la gente fornisce questa informativa su cosa c'è sul mercato sulle altre compagnie rappresentate poi il cliente dice no a parità di condizioni a me va bene rinnovare così perché dobbiamo introdurre degli adempimenti che sanno tanto di pura burocrazia ecco richiediamo che si renda conto l'istituto di vigilanza di questo ma ancora più che il legislatore si renda conto che l'articolo 132 bis del codice delle assicurazioni è ormai superato dalla storia dai tempi non ha più senso di esiste va abrogato punto 2 la domanda se il tar non dovesse darci soddisfazione il rischio esiste mentre i giudici fanno il loro lavoro e non sempre le conclusioni alle quali giungono sono condilisibili per le parti interessate beh noi dobbiamo difendere l'autonomia apprenditoriale professionale degli agenti e dobbiamo difendere l'aspetto consulenziale degli agenti significa queste norme nelle parti nelle quali sono inattuabili sono non adattabili alla nostra realtà sono inapplicabili non le possiamo applicare si va verso una forma di disobbedienza civile e se servirà anche l'esecutivo nazionale dello SNA è pronto lo sapete non è una novità di questa mattina ad affrontare qualunque ostacolo a percorrere qualunque strada per fare giustizia noi abbiamo il diritto dovere di svolgere la nostra attività in qualità di consulenti liberi consulenti dei nostri clienti tali siamo e tali vogliamo rimanere non accettiamo diktat che ci releghino al ruolo di comparatori perché se qualcuno pensa che noi agenti dobbiamo diventare dei comparatori di preventivi teorici di contratti inesistenti ci paghino e lo faremo qualcuno deve pagarci e diventeremo dei semplici comparatori di prezzi teorici di contratti inesistenti ma qualcuno ci paghi a farlo altrimenti ci lasciano lavorare ci lasciano svolgere la nostra attività consulenziale che la direttiva europea ci obbliga a fare e della quale noi siamo orgogliosi come categoria professionale si vedevo alcune domande che sono arrivate che però hanno trovato risposta alla fine già negli interventi degli ospiti per cui io direi che possiamo dare una brevissima conclusione e darci appuntamento alla prossima insomma io credo che abbiamo fatto un punto della situazione in modo adeguato e che sia emersa una coincidenza di visione sostanziale insomma tra gli intervenuti la tesi originariamente proposta dal sindacato sull'inutilità sostanziale e sulla pericolosità di questo strumento è stata confermata e ne viene fuori che per tutti urge una revisione del ripianto normativo che garantisca i diritti degli assicurati attraverso i doveri degli intermediari però questi doveri non devono essere fini a se stessi no devono essere inseriti in un processo di tutela che abbia un senso e che abbia la finalità anche con il contributo degli agenti di accrescere la cultura assicurativa di accrescere la consapevolezza dell'utilità di determinate coperture quindi attendiamo insomma anche a livello di regolamentazione le regole siano mantenute sempre attuali sempre utili auticchiamo e potersi adeguare alle esigenze che mutano continuamente insomma i provvedimenti vecchi come ha confermato poco fa anche il presidente De Mozzi davvero nessuno sa ormai che cosa farne ecco io voglio ringraziare il centro studi per questo poderoso lavoro grazie a Paolo Bullegas ringrazio te ma sto ringraziando evidentemente tutti i colleghi del centro studi che hanno lavorato ringrazio gli ospiti che sono intervenuti e ringrazio anche chi ha avuto la pazienza e la benevolenza di seguirci fino a questo momento e vi do appuntamento alla prossima occasione grazie a tutti arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti